buongiorno grazie a chi si è collegato e chi ha seguito in questi mesi il lavoro della comunità del pd lombardo a livello territoriale consiglio regionale nelle aule parlamentari e con i nostri amministratori siamo impegnati quotidianamente a segnalare le cose che non vanno in campo sanitario nella nostra regione perché vogliamo risolvere i problemi sui vaccini lo abbiamo segnalato fin da luglio i ritardi sulla medicina territoriale il numero degli uscano ancora sufficienti le mancanze per quanto riguarda il personale sanitario la situazione nelle rsa errori commessi dalla giunta fontana nella gestione della prima drammatica fase dell'emergenza sanitaria e su questo c'è il lavoro in corso della commissione regionale d'inchiesta errori fatti in questi mesi in cui non si è intervenuti per prevenire adeguatamente la seconda ondata ma oltre gli evidenti errori della giunta la fragilità del servizio sanitario regionale è di carattere strutturale risiede nelle scelte sbagliate della legge 23 voluta nel 2015 da maroni e portata avanti da fontana la sperimentazione di quella legge scadrà a fine anno e il tempo per cambiare quella legge è adesso e noi abbiamo lavorato per elaborare una proposta radicalmente alternativa abbiamo iniziato lo scorso 3 luglio ascoltando insieme a nicola zingaretti e beppe sala il mondo scientifico i medici gli operatori sanitari professionisti abbiamo ascoltato i cittadini organizzando banchetti nelle piazze nel corso del mese di luglio attraverso questionari online abbiamo un canale continuo di confronto attraverso lo strumento dei forum su piattaforma e sui social con le dirette facebook tutti i venerdì con i protagonisti settimana scorsa sul tema della medicina territoriale domani sulle professioni sanitarie a seguire sull'rsa oggi presentiamo una prima proposta un contributo aperto elaborato dal gruppo regionale di cui ha parlato beppe sala nei suoi tratti essenziali con grande forza e visibilità mediatica nei giorni scorsi adesso torniamo in tutto il territorio lombardo a discuterne raccogliendo contributi e specificità per sostenere una proposta che vogliamo frutto di un grande coinvolgimento popolare con il protagonismo degli amministratori di tutte le forze del centro sinistra e che si oppongono alla giunta fontana vogliamo fare una discussione nel merito per questo è utile sgombrare il campo da due argomenti il primo la lega attaccato subito sala non nel merito della proposta ma sul fatto stesso che ne abbia parlato la domanda da rivolgere alla lega è semplice ma non avete niente da dire nel merito dei contenuti o volete dire che è andato tutto bene e che niente va cambiato non solo diciamo noi che bisogna cambiare diciamo qual è la strada diversa da prendere aggiungo che bisogna finanziare questo radicale cambiamento con risorse straordinarie a partire da me da quelle messe a disposizione dal mess e la recovery fa secondo argomento da sgomberare dal tavolo la polemica sull'autonomia che puntualmente viene sollevata dalla lega contro il governo che vorrebbe scippare l'autonomia qui il problema non è astratto sì o no all'autonomia e noi siamo per l'autonomia qui il problema è che l'autonomia è stata esercitata male dalla lega dal centro destra non sono stati capaci di gestire le competenze attribuite a partire dalla sanità se la devono prendere con se stessi e non cercare di scaricare la colpa sugli altri veniamo la proposta richiamo i principi ispiratori e poi passo la palla a fabio pizzol che entrerà nel dettaglio della proposta noi vogliamo un nuovo servizio socio sanitario che garantisca la salute nel più ampio senso del termine quindi che sappia fare prevenzione e riabilitazione che sappia accompagnare le percorso le persone in tutto il percorso di cura e che offra la stessa qualità a tutti e non dia di più a chi se lo può pagare quindi l'importanza della medicina territoriale di tornare a puntare sul sul pubblico il coinvolgimento dei sindaci e delle comunità locali però qui ci stiamo già addentrando nel merito della proposta per cui chiedo a fabio pizzol a cui passo la palla di descriverla a lui fabio sì grazie vinicio grazie anche per aver ricostruito il percorso fatto in questi mesi un percorso che ci ha visto lavorare di concerto con tutte le varie articolazioni del partito ma anche con le altre realtà politiche i gruppi presenti in consiglio regionale e presenti sul territorio e oggi vuole essere proprio un nuovo avvio di un confronto a partire da una proposta che è stata elaborata ma che è aperta al confronto e alla discussione e non è un progetto già definito in tutti i suoi dettagli ma è una modalità perché ci si possa tutti assieme riappropriare di quella sanità che poco fa vinicio ha descritto all'interno di questa sua introduzione abbiamo dei passi da fare per quanto riguarda il prossimo periodo sono passi che sono dettati da scadenze istituzionali perché c'è la modifica della legge 23 la cui sperimentazione è ormai conclusa questi questa modifica arriverà in in aula nel consiglio regionale nel prossimo anno ma in commissione già nei primi mesi del 2021 questo è una prima è un primo passo poi è un passo successivo e più in là nel tempo sarà quello del superamento dell'attuale organizzazione della sanità lombarda con un progetto che vada oltre il 2023 e che ha come scadenza la scadenza elettorale quindi oggi parliamo da un lato di un primo passo tecnico per la modifica della 23 ma ci confrontiamo già con tutti coloro che sono convinti che si debba cambiare radicalmente la sanità lombarda per andare oltre e quello sarà un progetto successivo e poi ci sono dei passi concreti da fare ricostruire la fiducia in un sistema sanitario duramente provato dall'emergenza covid abbiamo operatori che sono molto affaticati e anche scoraggiati di fronte alla mancanza di direttive da parte di regione lombardia questo significa restituire anche dignità professionale sociale ed economica a tutti gli operatori sanitari dopo anni di tagli che in lombardia sono stati particolarmente dolorosi beh dobbiamo cambiare passo non lo faremo certo solo con la modifica della legge 23 ma sicuramente col passaggio successivo il governo peraltro per fortuna in questi ultimi anni ha cambiato marcia e ha ricominciato a investire e lo farà significativamente anche secondo noi da fare questo passo attraverso il messo come diceva vinicio poi individuare un nuovo equilibrio tra sanità pubblica e private tra ospedale e territorio altri passaggi fondamentali che si devono fare su un orizzonte medio lungo e come diceva anche nella sua intervista beppe sala ragionare su una più corretta remunerazione delle prestazioni che vadano magari anche oltre i drg e tengano conto dei risultati delle cure perché è questo che interessa i cittadini cosa bisogna cambiare nella 23 quindi il primo passo concreto che saremo chiamati a fare nelle prossime settimane anzitutto le ats che non hanno funzionato per come sono state individuate dalla legge 23 perché hanno fatto confusione tra progettazione programmazione e gestione hanno dato indicazioni poi anche confuse a seconda dei territori ci sono delle regole che valgono su alcuni territori e altre regole su altri la stessa distribuzione dei vaccini e il modo in cui sono stati fatti i tamponi il mancato tracciamento dell'epidemia in queste settimane è perché le ats non sono state in grado di lavorare come avrebbero dovuto e poi l'organizzazione della sanità territoriale perché è lì il punto è debole il buco nero della sanità in lombardia con le asst sono diventate preponderanti le aziende ospedaliere cioè gli ospedali hanno penalizzato i servizi del territorio l'abbiamo ripetuto a più riprese e questo è un tema su cui intervenire e poi i distretti che sono i luoghi dove la sanità territoriale si esplicita hanno perso la loro funzione di coordinamento dei servizi e di promozione della prevenzione è una sanità quella lombarda che è diventata solo prestazionale che garantisce la cura delle acuzie garantisce tante prestazioni ma non la cura e l'accompagnamento dei pazienti fino dove serve anche fino all'interno dalle loro case questa cosa non la sta facendo e quindi è una cosa che bisogna cambiare all'interno della legge 23 e poi recuperare il ruolo dei sindaci che hanno perso la possibilità di incidere sulla programmazione della sanità e sulla qualità del servizio ai propri cittadini quanti sindaci abbiamo visto frustrati in questi mesi nel vedere che non potevano fare granché rispetto a quello che stava accadendo e questo è uno schema per capire quelle che sono un po le varie tematiche e la governance quella che bisogna cambiare nella legge 23 a partire dal rapporto pubblico e privato dalla valorizzazione dei distretti e della medicina territoriale dal ruolo dei medici di base che devono tornare al centro dell'attenzione essere loro i registi della sanità sul territorio e dal coinvolgimento attivo dei sindaci temi importanti che già devono rientrare all'interno della modifica della 23 e qui entriamo in quella che è una proposta per la discussione ci stiamo ragionando ad esempio su un'azienda o agenzia regionale per il governo della sanità che deve superare le ats ma che è aperta alla discussione all'approfondimento per capire come davvero la progettazione la gestione dei contratti con e dell'accreditamento con il privato debba essere gestito in maniera uniforme su tutto il territorio regionale e poi quest'idea dell'agenzia regionale per l'innovazione della ricerca perché la sanità oggi ha bisogno di grandi investimenti di grandi idee di grandi strumenti dai big data alla telemedicina e per questo è utile che su tutta la regione ci sia un'uniformità perché non si creino delle differenze territoriali e quest'agenzia regionale di cui ha parlato anche beppe sala può essere uno strumento importante tutto da definire e da rafforzare nell'ottica del servizio poi a chi nei distretti deve garantire davvero la cura sul territorio e per le articolazioni territoriali abbiamo visto che le asst hanno fallito nel garantire questa unità tra ospedali e territorio allora ragioniamo su cosa può significare uno schema con le unità socio sanitarie territoriali che si prendono davvero cura di un'offerta adeguata e coordinata sul territorio e magari individuale delle aziende ospedaliere in cui bisogna invece investire i grandi ospedali pensiamo agli istituti di ricerca a carattere scientifico che esistono sul territorio Lombardo pensiamo ai grandi ospedali come Niguarda come l'ospedale Papa Giovanni a Bergamo come gli ospedali civili a Brescia questi non possono permettersi di trascurare la ricerca la l'assoluta eccellenza delle prestazioni su alcune branche della medicina per schiacciarci su esistenze territoriali quindi recuperare questa articolazione territoriale ribadisco tutte proposte su cui è necessario confrontarsi e discutere però abbiamo già delle idee come avete visto idee che vanno oltre una 23 che ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza e che come PD stiamo approfondendo stiamo dettagliando e continueremo a farlo come gruppo regionale e come partito con il forum anche sanità del partito regionale ma da oggi offriamo in maniera esplicita e anche sicuramente allargata al confronto con tutti quindi il PD non vuole fare da solo il gruppo regionale men che meno ma si pone a servizio di una discussione molto ampia. Vinicio Grazie Fabio a questo punto credo che ci sia la possibilità per chi lo ritiene di fare le domande trattandosi di una conferenza stampa per cui se ci sono delle domande siamo qui molto volentieri rispondiamo io a Fabio Pizzol nel frattempo Fabio colgo la palla prendo la palla al balzo visto che tu ricordavi il forum noi domani sempre in diretta facebook su pagina del del gruppo e tutte le articolazioni territoriali del partito democratico c'è uno di quei momenti di approfondimento che li chiamavo all'inizio domani sarà con Fabio Pizzo Gianni Girelli e Carmela Rozza i rappresentanti delle professioni sanitarie su uno dei punti evidenziati dalla dalla riforma per cui domani ci sarà la possibilità eh di seguirlo è alle diciotto dalle diciotto alle diciannove quindici e porre domande lunedì c'è la riunione del forum regionale poi ci sono le articolazioni territoriali eh chi vuole partecipare è su piattaforma per cui deve mandare una mail sulla pagina facebook del pd del gruppo trovate le mail di riferimento se ci mandate una mail così potete partecipare a questi momenti di eh confronto condivisione elaborazione comuni Fabio nel frattempo sono arrivati le domande no intanto prima in attesa delle domande volevo fare un'altra precisazione che diventa però anche un appello eh stiamo leggendo di eh progetti che eh si incrociano per la riforma della legge ventitré con tavoli di esperti della giunta eh partiti eh che di maggioranza che si confrontano ecco io credo e lancio qui un appello molto preciso e poi diventerà anche una eh diventerà anche una un atto eh formale con cui lo chiederemo che la sede di discussione è la commissione sanità del consiglio regionale noi chiediamo con forza che al più presto la discussione eh esca dalle segrete stanze e da tavoli non meglio precisati e arrivi eh sul da eh tavolo della commissione sanità oggi leggevo che anche l'assessore Gallera eh da questa disponibilità una centralità del consiglio ebbene lo si faccia prima possibile perché eh con il massimo rispetto dei dibattiti che si possono fare eh sui social o anche sulla stampa la sede per confrontarsi nel rispetto di tutti e soprattutto dei cittadini lombardi è quella istituzionale quindi che al più presto si arrivi a definire una discussione alla luce del sole in commissione eh sanità del consiglio regionale scusa Vinicio ma questo mi sembra un passaggio determinante per provare a fare sul serio perché altrimenti il rischio che siano solo parole parole e ancora parole e troppe ne abbiamo sentite in questi mesi da parte di una giunta eh che ha dimostrato poi nei fatti eh di non essere assolutamente all'altezza delle sfide. Grazie Fabio anche perché mi sembra che eh su questo la giunta continui a giocare a rimpiattino. Noi le nostre proposte le facciamo nel massimo della trasparenza e cercando il massimo del coinvolgimento. Se hanno idee le tirano fuori e lo faccelo come hai detto te giustamente. nelle sedi appropriate, le sedi istituzionali. C'è una domanda, c'è una domanda Vinicio che eh ci dice una eh uno di coloro che ci stanno seguendo. A mio avviso non dovete puntare a creare altre aziende ma organizzare meglio quelle che già ci sono. Eh se vuoi rispondo io immediatamente. L'idea è quella di chiarire le funzioni eh delle eh articolazioni territoriali. A noi non piace parlare di aziende eh sempre e comunque quando si parla di sanità perché dà l'idea eh di una monetizzazione eh della della sanità, di una eh dimensione commerciale della sanità. Eh però fa niente, i nomi non sono importanti, noi vogliamo che però queste articolazioni funzionino perché l'impressione, anzi la certezza, ce l'hanno messa di fronte questi mesi è che le ATS, le ASST non hanno fatto fino in fondo il loro mestiere, ma non per cattiva volontà di quelli che ci lavorano, che anzi ringrazieremo finché potremo, ma perché sono state pensate male e organizzate male dal punto di vista legislativo. Quindi accogliamo questo appello a non moltiplicare gli enti, diciamo così, o le aziende, ma a farle lavorare al meglio. Grazie per questa sollecitazione. Va bene. Non so Fabio se ci sono altre domande, altrimenti vuol dire che quantomeno siamo stati chiari. Cosa dici? Eh direi di sì, Fabio no, non sta a noi dirlo per carità. Dopodiché facciamo un ultimo check per capire se ci sono altre domande. Credo che poi eh anzi no, sono convinto che le slide che abbiamo utilizzato per questa presentazione eh sono a disposizione anche dei giornalisti eh che possono fare riferimento ai nostri uffici stampa e per ulteriori approfondimenti poi eh avremo sicuramente altre occasioni per cominciare poi a entrare nel dettaglio di una proposta che ribadisco è al confronto di tutti coloro che vogliono contribuire per una nuova sanità in Lombardia che secondo me è una sfida urgente. Grazie ancora a tutti. Credo che possiamo salutarci così. Gli appuntamenti li abbiamo ricordati prima per cui chi vuole seguire domani l'approfondimento sulle professioni sanitarie alle diciotto sulle pagine Facebook gruppo partito eh democratico Lombardo e tutte le articolazioni territoriali chi vuole partecipare a questo percorso di discussione di confronto di elaborazione lo faccia contattandoci via me. Grazie ancora a tutti. Buona giornata. Grazie. Grazie. Grazie.